che succede eccoci siamo online quindi possiamo iniziare intanto ringrazio lezio di lucia e piero bevi l'acqua subito la parola per la presentazione della lezione odierna vi ricordo che questa come le altre saranno disponibili e le già fatte sono già disponibili sul sito di transformitalia e a piero direttamente la parola grazie roberto per il tuo grande prezioso aiuto grazie grazie di cuore a vezzio di lucia che ha accettato di tenere la lezione questa sera sul tema delle città storiche e naturalmente non dirò nulla sul tema perché lascio e lascio più autorevolmente la parola a de lucia qualche elemento di carattere biografico qualche nota sul suo curriculum e percorso di urbanista voglio subito dire che vezzo de lucia è un insigne urbanista che ha segnato negli ultimi 50 anni e una delle pagine più importante dell'urbanistica democratica in italia e poi darò qualche contenuto a questa affermazione ricordo che è stato direttore generale del coordinamento territoriale presso il consiglio superiore dei lavori pubblici è stato presidente dell'associazione ranuccio bianchi bandinelli segretario generale dell'istituto italiano di urbanistica consigliere italiano di italia nostra abbiamo delle rappresentanti tra il nostro pubblico ha coordinato il piano il piano comprensoriale di venezia e della laguna ha soprattutto coordinato la ricostruzione di napoli dopo il terremoto del 1980 e qui diciamo il lavoro di vezzo de lucia è stato straordinario vi ricordo che a lui ai suoi allievi e ai suoi amici che hanno compiuto un lavoro straordinario per ricostruire napoli è dedicato un libro di gabriella corona che si intitola i ragazzi del piano appunto il piano il piano della ricostruzione libro pubblicato da donzelli nel 2006 dal 1990 al 1995 è stato consigliere regionale del partito comunista italiano nel lazio sempre impegnato civilmente e politicamente ha lavorato come urbanista in vari paesi e città del nostro della nostra italia è stato progettista dei piani provinciali di pisa di lucca di caserta e dei piani regolatori la strassigna di eboli di pisa di positano di meta e sorrente di pontassieve di tanti altri comuni ma verso de lucia oltre a molto operare e contrariamente a quanto lui con grande modestia sostiene e ha scritto molto ha scritto diciamo giornalisticamente per il messaggero per l'unità per il manifesto naturalmente consaggi sulle riviste specialità per favore chiudere chiudere ma ha scritto anche molti libri e su questo spicca questo lo voglio ricordare subito se questa è una città pubblicato per la prima volta dagli editori uniti nel 1989 con diciamo in prima edizione e con una prefazione di antonio cederna è ripubblicato io ho avuto l'onore in questa seconda edizione di donzelli 2006 di fare di scrivere la prefazione e vi assicuro un libro senza aver letto il quale non si comprende che cosa è successo alle città italiane nel dopoguerra da napoli a palermo da siracusa a tante altre città a roma ecco la devastazione la devastazione venezia certo la devastazione urbanistica che la nostra amata il nostro amato paese il nostro bel paese ha subito allora ma ricordo rapidamente alcuni altri titoli importanti per chi voglia farsi un'idea della storia delle città italiane del dei beni monumentali del nostro paese e anche della attività scientifica di vecchio ricordo le mie città di abbassarsi 2010 nella città dolente castelvecchi 2011 roma disfatta scritti insieme a francesco erbani sempre castelvecchio 2016 e ultimamente l'italia era bellissima città e paesaggio nella nell'italia repubblicana derive e approdi ecco io mi fermo qui do la parola adesso per un tema rilevantissimo cioè la difesa dei nostri centri storici del nostro grande unico patrimonio mondiale che oggi sotto attacco da una molteplicità diciamo di avversari e nemici interni ed esterni gli do la parola così lui ci racconterà di che cosa si tratta grazie pezzo grazie a te piero anche per l'esagerata presentazione ed entriamo entriamo nel merito dunque la moderna cultura della città storica che il tema di questo di questo incontro che è la difesa della città storica allora dicevo la cultura della città storica si è formata in italia è una nostra specialità diciamo così all'inizio degli anni settanta del secolo scorso con gli interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia popolare nel centro di bologna esperienza che poi racconto più diffusamente in seguito intendiamoci più o meno importanti interventi di recupero di porzione anche rilevanti dell'abitato storico sono stati operati in molti luoghi nei tempi passati ma quelle bolognesi sono le prime operazioni di risanamento urbanistico consapevolmente improntate credo che questo sia il punto e percepite come espressione della cultura urbanistica moderna il merito è in larga misura di Antonio Cederna il primo a capire che la città antica non è un quacervo di edilizia minore e di architetture più o meno importanti riporto solo qualche riga da quel testo fondativo secondo me dell'urbanistica moderna che è l'introduzione vandal in casa nel 56 scrive Cederna il carattere principale di questi antichi centri di città non sta nei monumenti principali infatti c'è un vestige ma nel complesso contesto stradale di edilizio nell'articolazione organica di strade case piazze giardini nella successiva nella successione compatta di stili e gusti diversi nella continuità della composizione minore che di ogni nucleo antico di città costituisce il tono il tessuto necessario l'elemento connettivo in una parola l'ambiente vitale questi antichi centri urbani continua Cederna sono un patrimonio incalcolabile perché la storia vi si è sedimentata e stratificata accordando la diversità in unità viva e tangibile tanto più ammirevole quanto più varie composite e diffuse sono le sue testimonianze un patrimonio d'arte di storia colmo e compiuto nel suo ciclo necessario a noi oggi proprio perché irripetibili e insostituibili sono i valori che l'hanno determinato conclude conclude Cederna due parole su Cederna Cederna era nato a Milano nel 21 e morto a Sondrio nel 1996 laureato in archeologia a Pavia specializzata a Roma condusse uno scavo a Carsoli in Abruzzo esperienza narrata nel suo libro uno dei suoi ultimi libri brandelli d'Italia ma lasciò presto l'archeologia e cominciò a scrivere d'arte moderna sullo spettatore italiano rivista diretta da Elena Croce dal 49 collaborò con il mondo di Pannunzio e dal 67 stile sul Corriere della Sera dove era stato chiamato da Giulia Maria Crespi poi sulla Repubblica dalla fondazione del quotidiano nell'ottantadue e sull'Espresso accanto all'attività di giornalista fu anche due volte consigliere comunale a Roma dal 58 al 61 1958 al 1961 per il Partito Socialista dal 1989 al 1993 come indipendente di sinistra del PC e poi deputato indipendente del PC dal 1987 al 1992 e negli anni della sua collaborazione con il mondo che è l'urbanistica l'urbanistica moderna diventa l'argomento principale dei suoi scritti moderna è l'aggettivo che Cederna non dimentica mai di abbinare alla parola urbanistica all'urbanistica che ama e questo per chiarirlo fin dall'inizio che Cederna non era un passatista come purtroppo molti denigratori ancora continuano a ripetere. Ivanda lì in casa raccoglie alcuni degli articoli scritti per il mondo dal 51 al 56. L'articolo che il VET titolo al libro denuncia il previsto sventramento di via Vittoria a Roma, una delle strade che congiungono via del Corso a via del Babuino per collegare in galleria piazza Augusto Imperatore con via Veneto, uno scempio autorizzato da una delibera della giunta comunale del 51 quando era sindaco il democristiano Salvatore Rebecchini. Cederna fu sostenuto da un folto gruppo di intellettuali, da Lala Zeta come scrisse lui stesso, da Corrado Alvaro a Bruno Zevi che ottenne il ritiro del progetto ed è una prima importante vittoria dalla quale prese le mosse un movimento d'opinione che pochi anni dopo dette vita a Italia Nostra, la prima e più nota associazione per la tutela dei beni culturali del nostro paese. Dei vandali ho già definito irrinunciabile la lunga prefazione, la lunga introduzione. Cederna contesta le impostazioni allora prevalenti che si rifacevano alla teoria del diradamento di Gustavo Giovannoni, autore di un libro famoso vecchia città ed edilizia nuova del 1931 e consentivano di manomettere e anche di distruggere i centri storici per ragioni di traffico, di igiene, di estetica, fatti salvi gli edifici di pregio, palazzi, chiese eccetera che andavano conservati. In alternativa Cederna sostiene invece per primo l'inscindibile unitarietà degli insediamenti storici, cioè come ho detto all'inizio che la città antica è un complesso unitario, non un assortimento di edilizia minore e di architetture più o meno importanti. L'impostazione che è ripresa e perfezionata nella relazione che Cederna scrisse con Mario Manieri Elia per il famoso convegno di Gubbio, dove, convegno nel quale fu fondata l'ANCSA, l'Associazione Nazionale Centri Storici Artistici nel 1960. Basilare è la seguente definizione. La cultura moderna ha esteso il concetto di tutela dal singolo monumento a tutto l'ambiente antico della città e ci impone quindi di considerare esso come essenziale e determinante per il carattere d'insieme, per la stratificazione delle fasi, l'unità complessiva, la continua e composita configurazione edilizia e naturale. Per cui possiamo dire, se vogliamo continuare a usare la parola monumento, che oggi monumento da rispettare e salvaguardare tutta la città storica, tutto l'insieme della sua struttura urbanistica, quale si è venuta lentamente componendo nei secoli. Insomma, l'intero centro storico è un monumento, definizione che da allora è ricordata come sintesi della carta di Gubbio. Il pensiero di Cederna fu profondamente innovativo quando ancora prevaleva il convincimento che la tutela dovesse essere limitata agli edifici di rilevanza monumentale, ho già detto, mentre il tessuto edilizio di base era disponibile per demolizioni, sostituzioni, per l'igiene, il traffico, l'estetica. Era sempre in vigore la già citata teoria del diradamento di Gustavo Giovannoni, né va dimenticato che nel 1925 nel suo famoso discorso, chiamiamolo programmatico, di Benito Mussolini sull'Uma, aveva impartito la direttiva che i monumenti millenari devono giganteggiare nella necessaria solitudine. Ai tempi della mia formazione universitaria era invece di moda l'ambientamento, metodo mai univocamente definito, volta a volta riferito a limiti volumetrici o a una sorta di mimetizzazione della modernità in ambiente storico. La carta di Gubbio fu ripresa dalla cosiddetta legge ponte del 67, voluta dal ministro socialista Giacomo Mancini, un uomo politico i cui meriti in materia di urbanistica secondo me sono stati finora sottostimati. Dopo la frana di Agrigento, lui si impegnò molto nelle vicende dell'urbanistica italiana. Credo che vada ricordato che... Era ministro dei lavori pubblici, no? Ministro dei lavori pubblici, sì, se non l'ho detto vi chiedo scusa. La carta di Gubbio, cioè riprendendo da qua, fu ripresa dalla cosiddetta legge ponte del 67, voluta dal ministro socialista Giacomo Mancini, i cui meriti sono stati sottovalutati. la legge ponte fu un primato della cultura urbanistica italiana. Governo e Parlamento danno forza di legge a un principio di tutela radicalmente nuovo che solo pochi anni prima era stato elaborato, quello della tutela appunto del centro storico, sul piano teorico. Un altro grande merito della legge ponte, che secondo me è l'unica riforma urbanistica dell'Italia repubblicana, fu l'introduzione fra i contenuti del piano regolatore della tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici. Per la prima volta la parola paesaggio compare in una legge ordinaria della Repubblica e forse anche del Regno d'Italia. La legge ponte subordina i nuovi interventi nei centri storici all'approvazione di appositi piani particolareggiati. Una soluzione labile e semplicistica, come intendono bene i miei colleghi e chi se ne intende anche un po' di diritto urbanistico, che però con il passare degli anni si dimostrò paradossalmente efficace, cioè in quanto, mentre in ragione della loro oggettiva complessità non furono quasi mai approvati i piani particolareggiati dei centri storici come prevedeva la legge ponte, mettendo fine alle gravissime alterazioni, se non vorranno avere le proprie distruzioni avvenute a causa della Seconda Guerra Mondiale e nel dopoguerra per malintesa modernità. Per esempio a Milano, che proprio negli anni dell'immediato dopoguerra ha sbrigativamente raso al suolo il suo centro storico e proprio Cederna nel mondo e sui vandari ne ha raccontato la distruzione. Nessuno può sostenere che la tutela del patrimonio immobiliare di interesse storico sia da allora pienamente garantita. Ma certamente non sono più all'ordine del giorno gli episodi di gravissima alterazione se non di vera e propria distruzione, come appunto l'ha appena detto era successo a Milano. Però Cederna si schiarò con entusiasmo anche sulle cose positive, a favore del recupero del centro storico di Bologna, al tempo di Pierluigi Cervellati, dell'addizione verde di Ferrara, dell'urbanistica napoletana degli anni 80 e 90 del secolo scorso. Non si può, come ho già detto, trattare di difesa della città storica senza riconoscere il primato di Bologna. L'esperienza bolognese comincia negli anni di Giuseppe Dozza, sindaco comunista dal 45 al 66. Nel 1960 il giovane architetto romano Giuseppe Campos Venuti, che aveva collaborato con Aldo Natoli, allora segretario del Partito Comunista Italiano di Roma, alla famosa indagine sulla concentrazione in poche mani della proprietà fondiaria nell'agro romano, fu chiamato a Bologna dal Partito Comunista Italiano per coprire la carica di assessore all'urbanistica. Campos attuò modelli inediti di politica e di pianificazione del territorio. Furono espropriati la maggior parte dei suoli edificabili per destinarli a case popolari. Le abitazioni private furono spostate in periferia, dimezzate alle densità, raddoppiate alle destinazioni a servizio, quintuplicate quelle a verde. E fu impostato il recupero urbanistico e sociale del centro storico. Strategia, come tutti sappiamo, ripresa poi e resa celebre da Pierluigi Cervellati, successore di Campos, cui si deve il cosiddetto PEP centro storico 73, cioè il piano per l'edilizia economica e popolare adottato appunto nel 73 dal comune di Bologna. Il piano era basato sul metodo dell'analisi e della classificazione tipologica. Negli anni precedenti elaborato da Saverio Muratori, Gianfranco Ganigia, Paolo Maretto ed altro. Era corredato il piano di Bologna da un'interpretazione evolutiva della legge per la casa del 71 dovuta al noto giurista Alberto Predieri che sopportava con grande sapienza giuridica appunto la legittimità e la fattibilità dell'esproprio dell'edilizia storica da destinare a case popolari. La centralità di Bologna nella maturazione di nuove esperienze di tutela e valorizzazione del territorio fu avvalorata dalle famose campagne di rilevamento dei manifatti durali nell'Appennino tra Firenze e Bologna, condotte in quegli stessi anni da Andrea Emiliani, che era allora soprintendente alle gallerie, Andrea Emiliani, fratello di Vittorio Emiliani, giornalista che tutti conoscete. Il recupero del centro storico di Bologna fu conosciuto e apprezzato in mezzo mondo e si ripete nel resto dell'Emilia Romagna, a Modena e a Reggio Emilia soprattutto, dove si sviluppa tra l'altro l'innovativa esperienza degli asili nido, fino all'eccezionale Parco Nord di Ferrara, più di mille ettari, dalle mure urbane all'alveo del Po. L'importanza del parco prevista dal piano regolatore del 75 fu pienamente accolta da Antonio Cederne e da Paolo Ravenna, uno studioso amico di Giorgio Bassani, di cui era stato allievo nella scuola ebraica dove lo scrittore insegnava dopo le leggi razziali del 1938. Fu Ravenna a definire il nuovo parco Addizione Verde, il nuovo piano regolatore, Addizione Verde, richiamando la celebre Addizione Erculea, l'espansione di Ferrara voluta da Ercole d'Este e progettata da Biagio Rossetti alla fine del quindicesimo secolo. Secondo Andrea Malacarne, esponente di Italia Nostra di Ferrara, nonostante la riduzione nel tempo dei vincoli di tutela naturalistica ambientale, nonostante che la parte del parco di proprietà pubblica sia solo di poco aumentata rispetto agli iniziali 100 ettari, nonostante che le amministrazioni pubbliche continuino a non avere piena coscienza del miracolo urbanistico che si trovano per le mani, nonostante tutto ciò, il sistema mura-parco urbano si autodifende e rimane un fattore di equilibrio e un fattore immensa per la città di Ferrara. Il modello bolognese è ripreso a Roma anche, dove nella seconda metà degli anni 70, quando era sindaco Giulio Carlo Argan e assessore al centro storico Vittoria Calzolari, in pieno centro a Tor dei Cenci, a San Paolino alla Regola, furono restaurati alloggi destinati a edilizia popolare e ricordo bene l'assegnazione delle case salutata da festosa partecipazione di popolo e da artisti di strada. Il simbolo disegnato sui muri di quei luoghi dove si fece il restauro era l'asino che vola, che da parte degli autori, dei giovani street artist, voleva rappresentare un'utopia che si realizza e la destinazione di quegli alloggi a case popolari era appunto un'utopia realizzata. Poi va ricordato Venzone, magistralmente ricostruito dopo il terremoto nel finito del 76 e poi Como, Brescia, Venezia, Palermo, Napoli. Non dimentico Taranto, che alla fine degli anni 60, prima ancora di Bologna, aveva messo mano al recupero della città vecchia, grazie a Franco Blandino, il benemerito e riservatissimo architetto, credo che pochi lo conoscano, che ha dedicato la vita al centro storico della sua città. Infine la vicenda dei sassi di Matera e del borgo La Martella. I sassi sono due valli contigue, il sasso caveoso e quello barisano, che precipitosamente discendono verso il torrente Gravina. Erano occupati dagli alloggi, in parte scavati nella roccia, dove braccianti e contadini poverissimi vivono insieme agli animali. La Matera Borghese era stata invece costruita sul piano che sovrasta i sassi e fu Carlo Levi, nel suo libro Cristo si è fermata eboli del 49, a denunciare per primo l'inaudita stratificazione. Bestie e contadini sotto la città borghese, dando luogo a un fasto e straordinario dibattito, alimentato anche dagli studi condotti quando era presidente dell'ino Adriano Olivetti e dal sociologo americano Frederick Friedman. Ma risanamento e recupero dei sassi furono continuamente rinviati, mentre cominciava il trasferimento degli abitanti nella nuova edilizia popolare nelle borgate rurali, tra le quali il borgo La Martella, un affascinante esperimento di rinnovamento senza rivoluzione, che oggi è un fiore appassito, la definizione di Tommaso Giuralongo, cui si deve l'ultimo tentativo, anch'esso mai condotto a termine, di restauro integrale dei sassi. Senza risorse per il risanamento, si è intanto attuata l'evacuazione totale dei sassi, che da habitat primitivo sono diventati luogo di sfruttamento turistico. È stato recuperato quanto era riutilizzabile, il resto è abbandonato, ma il dibattito internazionale sui sassi ha comunque generato a Matera una vitalità intellettuale ignota ad altre province meridionali. In seguito, fino alla fine del secolo scorso, si sono sviluppate le esperienze di grandi e piccole città, parlano sempre dei centri storici, da Como a Brescia, la Venezia, Palermo, a Napoli. Fu la più bella stagione, secondo me, dell'urbanistica italiana dell'ultimo mezzo secolo. È vero che allora, come quasi sempre, in gran parte d'Italia prevalevano malgoverno e interessi fondiari, ma fu una bella stagione, una vera e propria età dell'oro, credo di non esagerare, perché era diffusa la speranza che le cose potessero cambiare e la speranza era alimentata nel nostro campo, parla delle cose di cui mi occupo io, soprattutto dagli esempi di Bologna e dintorni. Di tutto ciò, oggi restano solo macerie materiali e ideali. Ma prima di concludere, mi pare importante ricordare che nel 2018 l'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli organizzò un convegno sul diritto alla città storica, nel corso del quale fu denunciata l'assenza a ogni livello della politica e dell'amministrazione del nostro paese di adeguati interventi a favore del più antico, diffuso e pregiato patrimonio d'arte del nostro paese, quello appunto delle grandi e piccole città d'arte. In quell'occasione fu anche presentata una proposta di legge sulla tutela dei centri storici che merita di essere ricordata e concludo con questa. Il contenuto più importante di questa legge era un programma straordinario per l'edilizia popolare nei centri storici. Fu proposto essendo convinti che per quanto rigorose ed efficaci siano le norme di tutela, se non si affronta con determinazione il disastro dello spopolamento, il destino dei centri storici è assegnato. Il solo recupero monumentale, senza il simultaneo recupero sociale e demografico, diventa un inutile spreco di risorse. Perciò serve l'intervento diretto dello Stato, come nei casi di grave calamità. D'altra parte, lo spopolamento di Venezia, secondo me, è una cosa più grave dell'alluvione del 66. La nostra proposta prevedeva interventi molto risoluti. L'utilizzo a favore dell'edilizia popolare del patrimonio pubblico dismesso statale, comunale e regionale. Si pensi a Roma, per esempio, la quantità di caserme che sarebbe possibile recuperare e destinare a edilizia popolare, come si diceva un tempo. L'obbligo di mantenere le destinazioni residenziali con la decadenza dei cambi d'uso verso destinazioni diverse da quelle abitative. Cioè, stabilizzare quanto rimane dalla popolazione e tentare di incrementarla, ma non si possono più mettere in discussione le destinazioni abitative nei centri storici. L'erogazione di contributi a favore dei comuni affetti da forte riduzione dei residenti. Per l'acquisto di alloggi nei centri storici da cedere in locazione a canone agevolato. La possibilità di subordinare la fattibilità di interventi nei centri storici promossi da operatori privati alla stipula di convenzioni nelle quali si è definito l'impegno allocare una quota degli alloggi restaurati a canone concordato. Il testo fu ripreso dai deputati Stefano Fassino e Rossella Muroni e dalla senatrice Michela Montevecchi, ma le proposte di legge sono poi finiti negli archivi delle buone intenzioni. È da allora che io sappia l'argomento del recupero e della valorizzazione della città storica e, ahimè, dimenticata. Ho finito. Grazie, grazie Vezio. Chi si è spenta la telecamera? Io ringrazio. Grazie Vezio. Io prima di dare la parola a chi vuole intervenire voglio aggiungere una considerazione a supporto delle ultime notazioni che faceva Vezio e del rilievo che ha dato l'esperimento di Bologna ricordando un aspetto fondamentale e cioè che Pierluigi Cervellati, l'urbanista che ha condotto l'intera operazione, consisteva nel momentaneo trasferimento della popolazione che abitava i quartieri storici di Bologna da restaurare e il loro ritorno una volta restaurati i luoghi, le abitazioni e al loro, diciamo, al loro posto originario. Una grandissima operazione che è l'esatto contrario di ciò che sta avvenendo alle città, alla gentrificazione di cui ci ha parlato, ci ha parlato Tommaso Montanari e perché capite bene che se la città rimane, i centri storici rimangono con le proprie strutture urbanistiche, con le proprie pietre, ma la popolazione viene sostituita da frettolosi turisti che soggiornano per poco tempo e la città muore. Il centro storico è una quinta teatrale, un mondo artificiale, ma la città è fatta anche di civitas, se no è fatta anche dalla cultura, dalla vita quotidiana della popolazione che ci vive stabilmente. Stop, do la parola a chi... E' Ilaria che ha chiesto un intervonere. Buonasera. 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 Allora, volevo dire una cosa a livello aneddotico che mi sembra importante. A livello, scusa? Aneddotico. Ah, sì. Scusa. I nostri dottorandi e studenti di urbanistica ormai chiamano De Lucia col solo nome, Vezio, un po' come se fosse un Dante dell'urbanistica. Ecco, questo ormai agli esami gli studenti non omettono il cognome e parlano di Vezio come una personalità che non ha bisogno di altre qualità, ecco, per essere specificati. No, io volevo chiedere a Vezio, visto che c'è un uditorio molto fitto di urbanisti, di persone che hanno ragionato molto su queste cose, di condividere quell'osservazione che abbiamo un po' costruito insieme, insomma, ovviamente Vezio c'era già arrivato, ma insomma poi ne abbiamo parlato insieme al dottorato qualche settimana fa, al dottorato di Roma, ingegneria, momento nel quale presentando il libro Vezio ci ha ricordato come l'articolo 145 del Codice dei beni culturali del paesaggio mette, diciamo così, la tutela, diciamo l'articolo recita questo, cioè che il piano paesaggistico è prevalente sulla pianificazione del territorio, pianificazione del settore e quindi Vezio giustamente ci ha fatto notare che l'urbanistica a questo punto diventa disciplina non del tutto, ma insomma in capo anche al Ministero dei beni culturali. Questo sarebbe un passaggio importantissimo, sottaciuto, come ci ha detto Vezio in quell'occasione, io vorrei che insomma che se ne potesse ragionare un po' insieme, magari se Vezio dice meglio quello che io un po' così confluo. Grazie. Non so se continuiamo. Come preferisci Vezio, se vuoi... No, forse è meglio raccogliere, raccogliere un po' di... perché se no... Vedo che Tonino Perna, Tonino Perna chiede la parola. Prego Tonino. Non sento. Tonino l'audio, non ci sento. Tonino l'audio. Clicca sull'audio. Aperto. Non si riusciva a... Era un audio chiuso. Allora, no, una curiosità, siccome questa legge del 1967 è detta legge Ponte e quando io era un ragazzo chiamavano anche legge Mancini, questa legge viene attribuita un fascio urbanistico di legge Messina. Ora, invece da quello che ho sentito è tutt'altro. è una legge che viene citata da una persona che su questo ha un'esperienza indubitabile, una conoscenza indubitabile. però io, come fanno, l'ho sempre sentito dire perché fino al 1967, Reggio Messina, essendo due città che avevano subito il più pesante terremoto del 900, pochi lo sanno, pochi lo sanno, ma Reggio Messina hanno avuto 100.000 morti, cioè una cosa che non c'è stata in nessun'altra parte del mondo il secolo scorso. e fu ricostruita durante il fascismo e, diciamo, con tutte case a due piane stile Liberty. Dopo il 1967 queste case stile Liberty stradolte hanno fatto superfetazione, cioè è stato proprio stradolto il centro storico sia di Reggio che di Messina. che non è stata fatta durante il fascismo, ma erano ben fatte, erano veramente notevoli. Ora, non capisco perché è stata attribuita questa legge, se c'era un articolo, qualcosa che ha permesso di sbloccare, perché erano bloccate a due piani, erano bloccate così. Niente, questa è una domanda da chi non ne sa niente dell'argomento. Grazie, Tonino. Continuiamo con gli esperti. Ci sono Sergio Brenna e poi Enzo Scandolo. Grazie. Veizio sa già come la penso su questi argomenti. Mi pare che anche lui su questo, nell'intervento, abbia seguito un po' alcuni ragionamenti che mi sono permesso di suggerire. Cioè che la legge 765-67, la legge Ponte, e il successivo decreto ministeriale 1444-68, di cui Veizio è uno dei principali autori, sono un patrimonio di riformismo che va difeso da tutta una serie di denigrazioni che lo vorrebbero far passare come ormai un retaggio del passato di fronte a emergere di nuove esigenze di carattere ambientale, il risparmio del consumo di suolo, il risparmio energetico, eccetera. Io sono il primo a riconoscere che i contenuti del decreto ministeriale del 68 risentono di tutta una serie di limiti dell'epoca. La copertura del suolo fra i parametri normali dell'urbanistica era un dato secondario che veniva definito empiricamente in maniera un po' senza troppa attenzione. Altri aspetti del risparmio energetico, eccetera, non rientravano assolutamente nella cultura dell'epoca. Io sono d'accordo che vadano introdotti tutta una serie di fattori nuovi, ma temo che l'impostazione attuale tenda a dire una volta che gli edifici applicano le migliori tecnologie di risparmio energetico, non consumano suolo nel senso che si impiantano su aree già utilizzate, magari con destinazioni diverse, aree industriali dismesse oppure se edifici già esistenti, su quelle aree si può fare ciò che si vuole, in termini di condensazione edificativa, altezze, distanze dal contesto, un'impostazione che le Archistar accettano con grande facoltà di avere piena libertà e che forse Rem Kolas aveva sintetizzato molto volgarmente dicendo «fuck the contest», «fottiamocene del contesto». Io sinceramente non me ne faccio convinto di questa idea che la novità di nuovi parametri di risparmio del suolo, di contenimento energetico, eccetera, siano legittimati a spazzare via una cultura del riformismo urbanistico che va migliorata. Nel decreto ministeriale si parla di 35 metri quadri per abitante di spazi pubblici. Le moderne città europee ormai ne pretendono 50 e oltre. Possiamo, come dire, migliorare anche quei parametri. Non sono disposto ad abbandonare quella cultura del riformismo in nome di una innovatività di parametri che forse allora non erano stati sufficientemente considerati e che oggi vorrebbero spazzar via quella cultura, quel reitaggio che oggi viene considerato un reitaggio. Lo dico perché l'esperienza milanese, soprattutto quella che io ho conosciuto e che ho cercato di contrastare, va abbondantemente in questo senso. Venzio ha citato il caso appunto di Milano negli anni 60-70 in cui si era inventata appunto le concessioni in precario. Se anche non si faceva il piano regolatore, si cominciava a costruire dicendo che un futuro piano regolatore avrebbe poi eventualmente spazzato via le cose che si erano fatte così all'impronta e che hanno distrutto appunto il centro storico milanese. Ecco, io credo che la falsamente accattivante innovatività delle cosiddette rigenerazioni urbane, così appunto accattivanti, piene di novità dal punto di vista del contenimento energetico o di immagini come gli edifici con i balconi pieni di alberi, boschi verticali, eccetera, eccetera, in realtà sotto sotto assomiglino moltissimo alle convenzioni senza piano regolatore degli anni 50-60, cioè prima della legge Ponte. Chiamiamo in una maniera cattidentemente innovativa la rigenerazione urbana, eccetera, ma assomigliano tantissimo a quel disastro che si chiamava allora le mani sulla città in cui il privato propone da sé quanto vuole costruire in base alle sue capacità di risorse economiche, di aspettative di collocazione sul mercato e il comune al massimo risponde di rimando, sì puoi farlo ma almeno dammi qualche contropartita, eccetera, facendo venire meno l'idea invece di una visione pubblica della costruzione della città. Quello che Vezio chiamava un disastro peggiore dell'alluvione a Venezia, cioè la sua trasformazione turistica, sta avvenendo a Milano sotto altri aspetti, di un turismo che più che ha il valore della città pensa appunto alla questione del glamour, della partecipazione, delle fashion week, eccetera, ma è esattamente la stessa cosa. Sostituire un'idea di una città che si basa prevalentemente su cittadini insediati con cittadini consumatori. Barbaceto in un recente articolo sul Fatto Quotidiano diceva che questo, ha come corrispettivo il fatto che ci sono i rantie di massa ormai, quindi i bed and breakfast, gli affitti a breve, eccetera, eccetera. Non ci sono più cittadini che abitano, ci sono cittadini che tendono a usare la propria casa come fonte di redditi. Ecco, io credo che noi dobbiamo riflettere appunto su questa cosa. Le novità che ci vengono proposte, la rigenerazione urbana, la legge ponte prevedeva appunto le famose zone A su cui si sarebbe dovuto intervenire appunto con caratteri particolari rispetto alle zone di espansione. Credo che noi dovremmo appunto riflettere su questo aspetto, di non accettare l'innovatività che viene sbandierata in nome dell'ecologia, del risparmio di suolo e anche di una modalità di uso dello spazio pubblico che è fortemente condizionata da una visione ludico-consumistica connaturata alle proposte dei privati. Quando sono i privati con le loro proposte a guidare la pianificazione e il comune agisce solo di rimando dicendo sì mi può andare, mi può andare con qualche correzione eccetera, la visione ludico-consumistica sia della città che dei suoi spazi pubblici è inevitabile. Il caso per esempio del progetto che ha vinto la risistemazione di Piazzale Loreto che ha tutta la valenza di richiamo storico agli eventi che vi si sono svolti e che sposta il Museo della Resistenza in un posto qualunque vede che lo spazio pubblico che viene proposto è una sorta di gelato impazzito in cui tutto è legato al uso consumistico. anche il passeggiare è passeggiare fra spazi pubblici soggetti alle proposte del privato e su questo noi dovremmo provare a riflettere. Ha un'idea che parta di nuovo da un'idea di visione del pubblico che tenga conto di quei rapporti che si sono conquistati con la legge Ponte che quindi proponga una pianificazione dei centri storici di iniziativa pubblica. Anche qui Roma so che ha le prese con il fatto che le palazzine storiche vengono con una legge apposita demolite e ricostruite purché il nuovo edificio abbia appunto caratteristiche di risparmio energetico eccetera. Siamo di fronte a questa cosa, a essere tornati al caso per caso alla proposta del singolo privato in nome di un'innovatività che è retrograda, che è falsamente innovativa che ci riporta alle mani sulla città degli anni 50-60. Le conquiste che così faticosamente avevamo avuto con la legge Ponte e con gli episodi di cui ha parlato Venzio ce li vediamo spazzare via a fronte di un'innovatività di parole d'ordine accattivanti su cui io sono il primo a dire che bisogna tenerne conto ma che rifiuto di accettare se pretendono di cancellare le conquiste del passato. Grazie, ho finito qui. Grazie. C'è Enzo, Enzo Spandurna. Le conquiste del passato di cui parlava Sergio Brenna sono quel periodo già ricordato da Venzio un periodo d'oro dell'urbanistica che coincide grossomodo con i 30 anni gloriosi dello sviluppo cioè fino agli anni 70 perché poi dopo gli anni 80 voglio dire l'urbanistica ha completamente perso qualsiasi capacità di influenzare lo sviluppo della città. in quegli anni furono fatte molto riforme tutte le riforme anzi furono fatte in quel periodo e come dire c'erano le lotte per la casa le lotte per i servizi manifestazioni imponenti in questo senso ecco ma questa appartiene a una questa storia appartiene a un passato che non si può certo riproporre così semplicemente dopo quel periodo ci sono stati anche altri momenti interessanti per esempio Venzio non ha parlato nella sua modestia dell'esperienza napoletana del primo Bassolino io primo governo Bassolino io personalmente l'ultimo dell'anno lo festeggiai a Napoli perché non volevo stare in questa città di Rutelli appunto e andai a Napoli per festeggiare questo rinnovamento napoletano mi ricordo che lo scrittore Starnone disse che a Napoli si era creato un clima così tanto di fiducia che i napoletani ripresero a pagare il biglietto dell'autobus in questa battuta che fece Starnone adesso le città sono una cosa molto diversa nel senso che sono governate da gruppi finanziari voglio dire che localizzano infrastrutture pianti, magazzini eccetera senza che ci sia una capacità di ostacolare queste iniziative le città sono diventate veramente degli incubi nel senso che il traffico le distanze la difficoltà di raggiungere i posti normali sono piuttosto invivibili il consumo di suolo per esempio Sergio Brenna diceva che non bisognerebbe tenere conto di queste fantasie ecologiche io voglio dire ieri c'è stata l'approvazione del rapporto dell'IPCC che voglio dire mette in guardia proprio sul fatto che siamo ormai su un punto di non ritorno insomma in cui il consumo di suolo voglio dire in questo senso è uno dei danni maggiori di queste nostre città ecco Verzi non ha parlato lo ha ripreso un po' lo ha sollecitato un po' Ilaria non ha parlato di una proposta che lui stesso fece cioè di come dire di tracciare un segno rosso sulle città e di stabilire che oltre a quel segno rosso non si deve più costruire voglio dire ecco questo lo dico perché c'è oggi un'ideologia anche delle città metropolitane dei sistemi metropolitani anche da sinistra che spaventa nel senso che la città deve ridiventare uno spazio formato da luoghi da comunità da relazioni eccetera ecco stiamo prendendo tutto questo per il clima e non sto qui a parlare di neoliberismo che voglio dire ha trasformato appunto gli abitanti in consumatori o clienti eccetera eccetera insomma volevo dire questo che mi pare cioè che il futuro dell'urbanistica sia piuttosto sia piuttosto oscuro ecco Vezio vuoi replicare tu? Sì non so se a questi interventi fatti vorrei riprendere soprattutto perché mi sono sentito un po' in colpa per non averla affrontato nella relazione l'osservazione che ha fatto Ilaria Ilaria Agostini cioè Ilaria Agostini ha citato ha citato il codice del del paesaggio e in particolare l'articolo 145 del codice che è stato oggetto di discussione in un altro incontro universitario bene io facendo facendo ammenta per bene impossibile sono stato strettamente al tema nella mia relazione quello della della città storica la storia della città storica diciamo così ecco però giustamente vengo richiamato vengo richiamato all'attualità ecco io all'attualità scusate voglio una specie di integrazione quindi alle cose che ho detto raccogliendo l'invito di Ilaria Agostini e adesso anche da parte poi dei successivi interventi il codice del paesaggio è una cosa molto più importante di quello che comunemente parla almeno del mio del mio ambiente io mi sono convinto studiando il codice del paesaggio che è quella cosa alla quale quelli meno giovani fra noi hanno dedicato il meglio della propria vita e che era la riforma urbanistica era un mito no? c'è una stanza piena ancora di cartelle dedicata ad infinite discussioni proposte eccetera sulla riforma urbanistica a partire dall'immediato dopo quella in poi fino appunto tra i magnifici trenta come come è stato detto era una cosa importantissima bene la riforma urbanistica secondo me c'è c'è nel codice c'è nel codice del paesaggio il codice del paesaggio ha fatto delle cose che sono appunto in genere probabilmente ignorate anche dal dal mio mondo dal nostro mondo eccetera ha restituito competenza allo Stato in materia di territorio questo io credo che si debba fare un lavoro di divulgazione di diffusione di queste cose e il recupero del potere allo Stato dove viene collocato anche a me questa cosa sembra straordinaria viene collocata nel ministero dei beni culturali è una novità dirompente assolutamente importante fino adesso l'urbanistica per restare questa specie di metafora che facciamo in riferimento alle competenze ministeriali eccetera era apparentata diciamo così ai lavori pubblici cioè alle trasformazioni all'espansione urbana eccetera adesso questo è stato cancellato dal codice in particolare come è stato detto dall'articolo 145 del codice che affida invece restituisce potere urbanistico allo Stato e per esso al ministero dei beni culturali al quale compete la politica la politica delle città ecco secondo me non è ignorata questa cosa perché credo che la prima cosa che avrebbe dovuto fare il ministero dei beni culturali il governo in genere era quello di rendere operativa questo conferimento di poteri allo Stato che io sappia nel ministero dei beni culturali non esiste un ruolo di urbanisti non credo che si siano mai occupati di urbanisti ma adesso la legge gli dà questo enorme potere di appunto procorre una politica nazionale sulle città fatta attraverso che cosa la pianificazione quale forma di pianificazione si restaurano i piani paesaggistici quelli che chiamavamo anticamente piani paesistici poi giustamente sono stati la legge corretti in piani correttamente detti i piani paesaggistici e coprendo tutto il territorio nazionale dei piani paesaggistici che sono copianificati fra le regioni e il ministero sotto lo stimolo e la la volontà la determinazione del ministero che fino adesso non ha minimamente segno di averlo di aver capito queste cose deve disciplinare l'attività poi urbanistica di comuni province eccetera tutta la cascata degli enti degli enti locali ecco è la riforma urbanistica semplificata tra l'altro molto chiaramente delineata un argomento però assolutamente ignorato ignorato da tutti e ringrazio ringrazio l'aria Agostini per aver sollevato questo problema sugli altri interventi cerco di essere telegrafico io sono molto in sintonia anche con con Sergio Brenna sono molto d'accordo con lui anche con questo tono come dire di rimpianto per i magnifici trenta o i magnifici cinquanta ma diciamo che quello che è successo allarghiamo anche un po' la datazione nella seconda metà del secolo scorso nel nostro campo nelle nostre cose è stato è stato è successo di tutto è successo anche gli anni delle mani sulla città ma appunto però quello che c'era questa non era una sensazione era un modo un modo di essere un modo di di operare che ci guidava anche nell'attività nell'attività professionale nell'attività accademica eccetera di speranza raggiungibile cioè certi obiettivi certe cose parevano assolutamente che era a portata di mano dell'azione politica politica amministrativa questo è stato ecco voglio ripetere recuperato abbondantemente dal per alcuni aspetti ma quelli più importanti dal codice del paesaggio sarebbe importante poi mi permetterei di di suggerire fra i temi che vengono presi da questa in queste in queste occasioni di dedicare un incontro anche al al codice al codice al codice del paesaggio e quindi dicevo di Sergio Brenna condivido quel il rimpianto per quel clima per quella speranza che c'era allora e che adesso credo che non ci sia che non ci sia che non ci sia più poi i riferimenti i riferimenti a Napoli e a Piazza Plebiscito naturalmente io non non mi sono soffermato su queste su queste cose non mi sembrava però visto che è stato citato è stata citata Piazza del Plebiscito che in qualche modo ha rappresentato ha rappresentato un po' il simbolo del rinnovamento fatto negli anni diciamo negli anni di Bassolino io non ho adesso in questo momento immagine ma sarebbe molto importante proiettare penso che tutti però l'abbiate vista che cos'era Piazza del Plebiscito prima della nostra amministrazione era una immonda distesa di alcune migliaia molte migliaia di uno del più grande parcheggio del pianeta probabilmente questa immensa splendida piazza assolutamente ricoperta ricoperta di automobili si decide che all'ora X di un certo giorno bisognava destinarla per analizzarla e evitare in modo più assoluto il parcheggio una vera e propria rivoluzione io ho raccontato me lo ricordo spesso in tanti insomma io mi ricordo che la mattina in cui si si per analizzare temevate temevate la rivolta dei napoletani si si temeva ma anche i giornali la stampa non ebbe una posizione come dire era cioè pensare che quella piazza che sta nel ricordo di tutti di tutti voi potesse essere un immane garage e continuare a esserlo ed era in larga misura sostenuta anche da autorevole intellettualità intellettualità napoletana insomma i gran pari eravamo convinti che non sarebbe stata accettata dalla città la mattina non dormi tutta la notte la mattina all'alba all'alba sono andato a piazza del plebiscite e ho visto a distanza di poco tempo due scene due scene indimenticabili una che arriva una coppia di sposi a fare la fotografia ricordo la fotografia la mattina molto presto a fare la fotografia ricordo del matrimonio che mi sembra un auspicio bellissimo insomma niente e poi un'altra cosa più molto più significativa che a un certo punto una un'auto dei dei carabinieri cerca di entrare cerca di entrare nella piazza e di forzare il picchietto di di vigili urbani i vigili urbani sapete a Napoli sono una categoria diciamo non amata insomma non ebbene io da quello che è successo quella volta li amo perdutamente i vigili urbani bloccano bloccano i carabinieri tirano fuori il blocchetto per fargli la multa i carabinieri cercano di di forzare ma la gente che era lì non era tanta immediatamente corre verso in difesa in difesa della penalizzazione della piazza e applausi un grande applauso ai vigili urbani di Napoli che non credono abbiano mai avuto avuto prima scusate io chiedo scusa a tutti se sono disordinato però non vorrei interrompere altri interventi e poi cerco di recuperare le cose da dire nel mio successivo intervento grazie grazie a te Renzo Riboldazzi grazie grazie a Rezio De Lucia per questa bella lezione e anche per questo successivo intervento così come grazie ai colleghi che sono intervenuti prima di me io volevo solo fare un'osservazione e condividere con voi rispetto al fatto che la cosiddetta urbanistica fascista di demolizione dei centri storici ha una linea di continuità con tutto ciò che succede dopo cioè il passaggio da un regime totalitario a un regime democratico non segna un vero e proprio cambio di cultura anche se spesso questa cosa ci viene presentata così a Milano per esempio c'è questo piano Albertini dalla metà degli anni trenta che sostanzialmente sulla scia di un progetto di Piotalupi presentato ad un concorso del 26-27 prevede la quasi totale demolizione del centro storico e sostituzione con un edilizia a volumetria maggiorata e anche diciamo che rivolta a centri sociali più ambienti non certo quelli che abitavano il centro di Milano in quegli anni ebbene il primo col passaggio diciamo nel 45 il CLN la prima scelta che fa è quella di sospendere forse legalmente questo piano Albertini che era stato approvato per legge con una legge nazionale e di avviare questo per dire anche diciamo di quanto un piano era ancora sinonimo di e la città la forma della città era ancora sinonimo di identità con la con la collettività piano sospeso avvio diciamo di un percorso democratico di gestazione di un nuovo piano regolatore si fa un concorso aperto a tutti non solo ai professionisti arrivano a Milano 96 proposte se ne discute al Castello Sforzesco in sedute pubbliche per capire insomma per orientare poi la pianificazione futura si arriva finalmente del 53 di un nuovo piano la faccio molto molto breve ma è lo stesso piano del quale Cederma scrive un pezzo intitolato Requiem per Milano cioè che contiene sostanzialmente le stesse logiche molte forse puoi ripetere il titolo dell'articolo di Cederma Requiem per Milano ah Requiem per Milano ma lo ricordo sì ecco che sostanzialmente ha le stesse Cederma denuncia il fatto che sostanzialmente questo nuovo piano regolatore ah ho dimenticato di dire dopo il convegno al Castello Sforzesco vengono coinvolte più di cento persone giovani professionisti che sostanzialmente nel periodo tra le due guerre non avevano potuto esprimere alcun che diciamo rispetto al futuro della città quindi è un piano ampiamente democratico nel suo processo nella sua genesi dove c'è diciamo questo processo di partecipazione di coinvolgimento di molte figure che erano state escluse per ragioni politiche dalla pianificazione milanese nel periodo tra le due guerre eppure quello che viene prodotto di fatto diciamo dal punto di vista della cultura del rapporto diciamo con il centro storico è sostanzialmente in gran parte in continuità con quello che aveva fatto il fascismo quindi a me questa cosa colpisce molto cioè questo disallineamento tra la cultura urbanistica e diciamo i processi democratici e questo per dire che probabilmente se non c'è una cultura urbanistica diffusa attenta a certi valori i processi democratici in sé probabilmente ci mettono a riparo ci tranquillizzano da molti punti di vista ma rispetto a certi contenuti forse non lo fanno adeguatamente grazie grazie a te Elisabetta fuori reagisco in modo molto confuso mi sentite molto confuso a tutto quello che è stato detto sono sono stati a partire da Vezio e anche i successivi interventi estremamente incisivi secondo me nel mettere in luce la complessità e l'importanza dell'argomento e diciamo il mio contributo invece confusionario a tutto questo va un po' nella direzione di sottolineare alcuni aspetti uno l'insoluto rapporto tra centro e periferia delle città che continua ad essere critico assolutamente critico e invece credo che proprio in questo in questo rivoluzione del rapporto centro periferia stia un pezzo della della soluzione dal punto di vista di chi abita le periferie di chi abita il centro credo che sia fondamentale ripensare ad un ripopolamento del centro anche tenuto conto di soggetti sociali e di categorie sociali che ne sono sempre più esclusi soprattutto i giovani per esempio allora delle politiche che guardino invece al ripopolamento dei centri storici naturalmente con adeguate politiche di sostegno a certe forme di affitto appunto calmierato convenzionato naturalmente ma che possano individuare nei giovani e anche in diverse forme dell'abitare un po' la soluzione del problema in alternativa appunto da un lato alla gentrificazione dall'altro alla trasformazione dei centri in alberghi diffusi diciamo a tempo a tempo breve e allora su questo credo che ci sia appunto un lavoro di riflessione importante da fare e sul quale dovremmo impegnarci così come la questione della rigenerazione sono d'accordissimo anch'io con Sergio Brenna sull'uso improprio di questi termini che mistificano una realtà che è soltanto fatta appunto di di speculazione e di disattenzione in realtà avere problematiche ambientali e sociali ecco però vi domando e vi domando se non sarebbe importante invece riuscire a ragionare e a trovare una soluzione per coniugare i due aspetti la rigenerazione sociale e ambientale è chiaro che dal nostro punto di vista debbono essere cruciali e interagire tra di loro perché la rigenerazione sociale è anche quella che è fatta appunto di nuovi soggetti che popolano la città e soprattutto i centri storici della città ma che in uno scambio anche con la periferia ma anche in una rivisitazione di come dire anche di problemi che secondo me vengono completamente elusi il bosco verticale no ci vogliono dei boschi orizzontali in città come Torino per esempio dove ci sono ancora milioni di metri cubi di aree industriali dismesse di cui non si sa che cosa fare che hanno problemi di bonifiche costosissime che hanno comunque e un sacco di altri problemi di dare un senso a questi spazi ecco lì per esempio una politica coraggiosa potrebbe immaginare la creazione di boschi urbani o comunque di spazi nei quali l'ambiente naturale riprende il sopravvento su un degrado spaventoso che ha caratterizzato la fase produttiva e adesso la fase di abbandono di questi spazi che sono veramente in balia delle diciamo del degrado più più totale il discorso dell'alfabetizzazione e della cultura urbanistica diffusa secondo me è anche cruciale perché noi non ci rendiamo conto e lo dico insomma mettendomi nel impropriamente insomma nel novero appunto della vostra autorevole professione di urbanisti io sono sociologa e l'urbanistica l'ho incrociata nel nel mio lavoro universitario ma non non ne sono assolutamente non me ne sono impossessate in termini diciamo professionali e di competenze ma mi rendo conto che invece è uno sforzo che bisognerebbe fare tantissimo di alfabetizzazione perché altrimenti è difficilissimo far capire alle persone tutto quello che passa attraverso l'urbanistica e attraverso anche la speculazione sulla città allora tutto questo credo che ci vorrebbe una scuola soltanto per realizzare questo questo obiettivo perché soltanto così creando consapevolezza nelle persone comuni si può pensare di poter avere un sostegno se si vogliono fare delle proporre delle politiche alternative a una società diversa e anche la questione della formazione dei giovani dei giovani che si dovrebbero occupare professionalmente e anche a livello istituzionale di queste questioni credo che ci sia un enorme lavoro da fare mi auguro che anche questa occasione che ci è stata offerta da da Piero con questa iniziativa della scuola possa prendere anche delle appunto delle nuove vie di approfondimento e di coinvolgimento perché è questo che vogliamo realizzare un cambiamento della società grazie grazie a te io vedo ancora Sergio che ha richiesto di parlare però volevo chiedervi siccome alle sette e mezza dobbiamo chiudere di essere molto brevi e di dare modo poi dopo a Bezio di poter realizzare brevissimo brevissimo la telecamera ah sì scusa rigetto l'etichetta di nostalgico per la difesa non è una questione di nostalgia le ritengo fortemente progressive quelle conquiste del riformismo di quegli anni e io sono il primo a dire accetto l'invito anzi come dice Elisabetta uniamo le nuove necessità i nuovi parametri risparmio di suolo eccetera al potenziamento dei vecchi parametri quindi non più 35 metri per abitanti ce ne vogliono 50 100 perché abbiamo lo spazio per farlo non accetto l'impostazione siccome abbiamo nuove necessità nuovi parametri sul risparmio di suolo sul contenimento energetico eccetera purché rispettiamo questi nuovi parametri dei vecchi e sul già edificato possiamo fare quello che vogliamo duplicare triplicare la densità edilizia non dare più nessuno spazio pubblico altezze spropositate non ci sto non ci sto per me fare così e tornare a dire accettiamo le mani sulla città sotto l'etichetta irenica ma così siamo molto ecologisti ecco mi pare un vero inganno chiuso la nostalgia è un sentimento positivo di cui non vergognarsi e anzi da rivendicare se non abbiamo nostalgia tutto ciò che avviene il presente il futuro sono sono sempre accettabili e non criticabili la nostalgia rivendichiamo grazie Bezio per la chiusura e poi ci salutiamo con Piero va bene io approfitto di questa dei minuti conclusivi per affrontare quell'argomento che non di cui non ho parlato nella redazione che però è stato richiamato da qualcuno è una cosa sulla quale io sono impegnato da abbastanza tempo da qualche anno negli anni più recenti è quella che tra l'altro è l'ultimo libro che ho scritto è l'ultimo capitolo del libro cioè la linea la linea rossa una sorta di secondo me necessaria indispensabile enorme semplificazione della della disciplina urbanistica vorrei presentarla presentarla così questa cosa nel senso che alla fine bisognerebbe poi naturalmente trovando tutti i modi per legittimarla da un punto di vista giuridico eccetera però concettualmente bisognerebbe fare un'azione molto diffusa volta a far capire la necessità assoluta vitale per la nostra stessa sopravvivenza di fermare nel modo non non ridurre ogni tanto anche nell'ultimo provvedimento di governo proposta di legge urbanistica del governo c'è la riduzione del consumo no 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 bisogna fermare brutalmente fermare a un'ora X in tutte le amministrazioni chi ha più sensibilità muovendosi ciascuno nel suo ambito come può fermare il consumo del suolo e questa cosa rappresentandola come una mappa una mappa aggiornata della della città e dalla quale sia molto evidente il territorio lo spazio edificato e quello non edificato e disegnare tutto intorno allo spazio edificato questa linea rossa qualcuno mi ha detto che deve essere una linea verde benissimo verde blu insomma non mi pare che sia questo il problema che non significa ecco qual è il concetto secondo me del quale dovremmo tutti noi farci così diffusori che non è fermare il consumo del suolo non è fermare lo sviluppo niente affatto perché il perimetro che chiude in qualunque vorrei dire luogo d'Italia l'edificato rispetto al non edificato ha in sé sconfinate possibilità anche di spazi non ancora occupati dall'edilizia per soddisfare qualsivoglia bisogno arretrato non bisogna dire no noi non vogliamo che si facciano più residenze in alcuni posti servono ancora nuove residenze tutto si può fare tutto può essere discusso le situazioni per nostra fortuna nel nostro paese è tutto così fortemente differenziato ecco ma una cosa deve essere assolutamente assunta come non possiamo più consumare neanche un metro quadrato di suolo all'interno dell'area edificata ci stanno tutte le condizioni per poter fronteggiare adeguatamente abbondantemente senza problemi di compressione delle legittime esigenze di servizi di necessità di spazi pubblici eccetera che sono invocati dappertutto all'interno della linea all'interno della linea colorata rossa o verde come mi pare io credo che questo debba essere un po' come dire l'appello da fare da parte di chiunque sia impegnato e abbia comunque dimestichezza con questa materia per dire il lavoro tutto deve essere svolto sviluppato all'interno di questa di questa linea rossa questo è stato accennato anche stasera da qualcuno e io credo che in questa direzione noi dobbiamo dobbiamo operare io vi chiedo scusa ma almeno stando mi pare che il tempo sia scaduto non so se c'è ancora qualche coda di intervento al quale dare spazio pieno affido a te la conclusione del ma credo grazie penso credo che sia stata una serata veramente molto ricca perché perché a parte a parte la tua splendida relazione la tua lezione il livello della qualità degli interventi è stata davvero notevolissima una serata di grande pregio e di informazione e formazione per tutte quante tutti quanti io devo chiudere perché scade sta per scadere il tempo ricordo la lezione del prossimo giovedì 30 marzo che sarà tenuta da Guido viale sul tema la crisi ambientale e l'economia della cura ringrazio ringrazio ancora Vezio ringrazio Roberto Morea e tutte tutti quanti che avete reso possibile questa straordinaria serata grazie è a presto ringrazio